buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde oggi torneremo a parlare di gps e delle prossime procedure telematiche che dovranno essere fatte prima domanda quali sono i tempi per poter vedere le gradatorie provinciali per le esperienze regolarmente pubblicate allora per il controllo delle domande gps 2022 2024 presentate con istanza telematica entro le 23 59 del 31 maggio 2022 alcuni uffici scolastici provinciali stanno già provvedendo a definire le procedure per l'esame delle istanze con l'istituzione di scuole polo che fanno da coordinamento dei lavori altri uffici scolastici provinciali non hanno ancora iniziato il controllo delle istanze i tempi di pubblicazione delle gps di queste gradatorie molto attese sono previsti per la seconda metà del mese di luglio domanda numero 2 nel caso un aspirante dovesse riscontrare nella pubblicazione delle gps dunque delle gradatorie dunque a luglio durante il mese di luglio saranno pubblicate dei punteggi non corrispondenti a quanto effettivamente dichiarato cosa dovrebbe fare questo aspirante in tal caso dovrebbe immediatamente chiedere all'ufficio scolastico provinciale presso il quale ha inoltrato la listanza l'immediata rettifica del punteggio dell'anomalia riscontrata in caso di insuccesso del reclamo ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 dovrebbe avverso il provenimento di pubblicazione le gps e fare ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione oppure a ricorso giurisdizionale alla competente tar entro 60 giorni terza domanda quali altri appuntamenti ci sono da attendere per completare la procedura delle supplenze per l'anno scolastico 2022-2023 dal gps allora gli appuntamenti importanti per completare le procedure telematiche delle gps sono essenzialmente due il primo è per coloro che hanno fatto un inserimento con riserva o hanno dichiarato di avere un contratto in essere successivo al 31 maggio 2022 potranno verso l'ultima decade di luglio sciogliere la riserva e acquisire i punteggi dei servizi svolti successivamente al 31 maggio e la seconda è che verso la fine di luglio o al massimo per i primi giorni la prima decade di agosto sarà disponibile l'istanza della scelta delle preferenze per le supplenze annuali e fino al termine di attività di dati e quest'ultima procedura è molto ma molto importante faremo sicuramente altri video specifici sulle queste procedure da affrontare seguiteci ancora nei nostri canali social nel nostro sito www.tecnica della scuola.it perché vi terremo informati su questo argomento e tanti altri arrivederci